Avevano appena rubato dall'ex cementificio otto quintali di rame quando all'uscita hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno arrestati per furto in manette cinque romeni, tutti residenti a Vasto. Sono stati arrestati in flagranza di reato cinque cittadini romeni, autore di un grosso furto di rame all'interno di un cementificio. I cinque hanno scavalcato la recensione e sono entrati all'interno del cementificio. Hanno iniziato a raccogliere del rame, lo hanno ripulito, quindi sgusciato e dopo diverse ore, dato il quantitativo di quasi 800 kg, si stavano prestando a metterlo in macchina su una Mercedes per poi portarlo. Erano persone in trasferta. Ha arrestato la notte scorsa anche un 33enne pugliese che ieri sera aveva rapinato con un complice, poi riuscito a fuggire, un distributore di benzina di cappelle sul tavo. I due, dopo essere stati costretti a lasciare la loro auto, hanno anche provato a chiamare un taxi. Intorno alle 8.30 di sera è stata consumata una rapina da parte di due persone, di cui un'armata con un mitra a questo distributore di benzina. Una pattuglia che transitava sul posto, allertata pochi istanti prima, ha avuto l'intuito di capire che questo furgone, di cui sconoscevamo all'inizio i dati, colore, qualunque elemento, poteva essere sospetto e poteva essere il mezzo utilizzato dai rapinatori. Si è posto all'inseguimento e il mezzo poi ha terminato poco dopo fuoristrada. I due rapinatori sono scappati quindi nelle campagne. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, dopo aver cinturato la zona, è stato individuato nel paese. La sua posizione è chiarissima, in quanto gli è stata trovata l'area furtiva, circa 480 euro, aveva addosso e ancora il computer, anche questo portato via durante il colpo.